Buongiorno a tutti, locali e remoti in questo caso ovviamente. Allora, io mi chiamo Emanuela Caramagna e lavoro all'interno di Google Cloud nella parte di Customer Engineer, quindi faccio pre-vendita e seguo la parte di Infrastructure Application Modernization. Quello che cercherò di spiegarvi oggi è un po' tanto com'è l'approccio Google a livello generale, perché è importante capire come viene declinato il tutto nelle nostre tecnologie. Il nostro approccio parte da uno statement, da una missione precisa, quella di aiutare i clienti a creare innovazione, quindi a trasformare la loro modalità di lavoro attuale con una digital transformation e creare sempre più valori dai dati. Da questo, diciamo così, parte tutto quello che è il lavoro all'interno di Google, a 360 gradi. Questo vuol dire che poi il tutto si declina sul fatto di avere un approccio open, quindi tutti i nostri strumenti cercano di avere il più possibile un campo aperto per chi li utilizza, in modo da non creare delle limitazioni oppure dei lock-in. Dall'altro lato però abbiamo un occhio molto attento a quello che è la componente di security, quindi per esempio tutti i nostri dati all'interno dei nostri sistemi sono criptati e l'utente finale può decidere se vuole gestire lui le chiavi di encryption a livello generale. Questo ci aiuta, diciamo così, a creare un sistema sicuro, oltre a tutti gli altri strumenti di contorno che abbiamo. Ma siamo anche attenti a essere vicini al cliente su valori che sono per esempio la sostenibilità. Abbiamo un piano di sostenibilità molto complicato, molto articolato, che include tutta una serie di elementi che possono aiutare i clienti anche nel loro piano di sostenibilità e quindi ad alinearci con le loro politiche aziendali. Ovviamente abbiamo sempre un occhio nell'utilizzo delle tecnologie che siano facili, che aiutino il cliente anche ad avere un ritorno dell'investimento e abbiamo delle soluzioni verticali per ogni industria. Quindi il mondo Google è veramente molto ampio. Questo quando il cliente è già in cloud, ovviamente, ma ci rendiamo anche conto che lo spostamento, cioè la trasformazione da quello che è un mondo on premise al cloud è un elemento complesso da gestire, e quindi richiede un effort, uno sforzo da parte delle organizzazioni del cliente. E in questo contesto, diciamo così, si inserisce il nostro ambiente VMware anche per aiutare i clienti a spostarsi in modo più agevole all'interno del cloud, cioè quindi aprirsi ad un mondo nuovo, ma senza dover rivedere completamente tutta la loro organizzazione aziendale. Quindi l'ambiente di Google VMware Engine generalmente è utilizzato per una serie di use case proprio in questa ottica. Il primo use case che generalmente il cliente ci approccia è il disaster recovery, perché ovviamente in questo caso io posso, diciamo così, mantenere tutto quello che ho on premise e spostare in cloud solo la mia parte di disaster recovery, quindi una parte tipicamente passiva. L'altro aspetto è il discorso di fare un lift and shift. Quindi io ho sposto i miei workload così come sono oggi, all'interno di VMware invece che averli on premise, li sposto su Google Cloud. Ma questo spostamento poi mi abilita, come vedremo, a delle funzionalità future, quindi posso poi andare ad agganciare altre cose all'interno del mio ambiente senza dover trasformare l'esistente. Oppure ad esempio la parte di PDI, può essere un altro use case che funziona bene all'interno del nostro ambiente e tutti quei clienti che vogliono poi approcciare la parte di application modernization e data innovation che vengono correlate all'interno dell'ambiente Google senza dover cambiare niente di quello che c'è attualmente in casa cliente. Quindi perché Web Over Engine? Perché il cliente mantiene di fatto la sua attuale struttura, quindi ha tutta la parte di operation che rimane immutata. Immutata è esattamente coerente con quello che è on premise, quindi può fare un'estensione del suo data center attuale on premise su cloud. Questo ovviamente dal punto di vista operativo significa che il cliente non deve stravolgere tutta la parte di procedure e questo è un elemento che aiuta il cliente ad approcciare il cloud in modo più semplice, soprattutto se si tratta di un cliente enterprise, dove all'interno ci sono una serie di gruppi di lavoro e di strutture che devono essere toccate da questo spostamento. Ma questo avviene mantenendo un elevato livello di sicurezza, per cui questo aiuta il cliente a bilanciare tutti i suoi elementi all'interno dell'azienda. Cosa succede? Di fatto il management è lo stesso. Io ho un v-center, ho le VM, ho degli SX host con delle caratteristiche ben specifiche, ho la componente di networking e la componente storage, tutti disponibili all'interno di Google Cloud. Quindi tutti questi elementi sono visibili e amministrabili dal cliente, per cui mi ritrovo un ecosistema completamente compatibile con l'on premise, senza necessità di trasformare niente. In più posso creare un collegamento tra quello che è l'on premise attuale e il VMWare in cloud. Per cui posso fare, come dicevo prima, ho un disaster recovery, quindi ho una replica costante verso il cloud che mi permette di mantenere i miei dati su e attivare il tutto solo in caso di necessità o di test, oppure fare un'estensione o una migrazione. Questo chiaramente dipende da qual è il piano del cliente stesso. Questo è un po' per farvi capire quali sono le responsabilità di Google rispetto a quello che è questo mondo. Cioè, la nostra parte riguarda la parte di gestione dell'infrastruttura, quindi ci occupiamo noi di gestire la parte di monitoring, alerting, patching e upgrade del sistema, di fare la remediation in caso di failure di qualcosa o di gestire tutto quello che è l'environment dei data center sottostanti, che il cliente non vede, chiaramente. E non è da poco questo elemento dal punto di vista operation. Mentre è completamente libero lato cliente la gestione che sta nelle VM, quindi dal v-center in su, inclusi tutti i tool a corredo. Ok? Quindi il cliente può scegliere quali tool vuole utilizzare. Non c'è una chiusura in questo senso. Dove ce l'abbiamo questo elemento? Perché il cloud è cloud, è vero? Però poi i data center sono fisicamente disponibili in posti precisi. Quindi abbiamo una distribuzione in 12 region all'interno di Google Cloud. C'è un piano di aumentare queste region sempre di più. Tra l'altro, in questo contesto, proprio in Italia, tra quest'anno e l'anno prossimo ci saranno due region nuove in Google Cloud. Una a Torino e una a Milano. Quindi con una distanza tale per cui riusciremo a gestire una replica sincrona tra le due region dal punto di vista dell'allineamento del dato e per cui si arriverà anche in Italia a questo servizio. Non ci sarà neanche più un tema di data locality nel futuro, nel futuro breve. Per cui avremo la possibilità di dare questa opportunità anche ai clienti italiani senza la preoccupazione di dove è il mio dato. A parte il fatto che il mio dato so dov'è, perché se lo metto a francoforte so che il dato ha francoforte. Non è che viene sparso in giro per il mondo. Non stiamo parlando del cloud storage dove potrebbe esserci una dispersione geografica diversa. Qui il dato è a francoforte e l'elemento è a francoforte. Quindi io so esattamente dove metto la mia informazione, a differenza di altri servizi, diciamo, serverless. Che cosa mi abita? Cosa mi permette di fare? Abbiamo detto, agevola la migrazione. Posso mantenere controllati i costi, per esempio per il disaster recovery posso ottenere un ambiente minimale acceso che viene espanso nel momento in cui faccio i test di DR. Quindi tengo uno zoccolo minimo di ODSX accesi, dopodiché abilito gli altri solo nel caso in cui mi serva a fare un test o sono veramente in DR, cosa che si spera non succeda mai. E viene tutto eseguito in una modalità sicura. Quindi ho tutta una serie di elementi a contorno che mi vengono forniti dalla struttura cloud che mi permettono di accendere tutti i meccanismi di sicurezza necessari, più o meno sofisticati a seconda delle esigenze del cliente. ho l'agilità di interoperare con la parte on-premise, di contro mi apro a una serie di servizi nuovi che posso in qualche modo integrare con le meccanismi esistenti. Quindi posso poi pensare di andare a lavorare sulla parte, ad esempio, di TensorFlow, che è un software che mi permette di gestire i modelli di machine learning, di artificial intelligence, oppure posso lavorare con il cloud storage o con le cloud operations o con BigQuery, che è il nostro data warehouse, molto famoso, diciamo così, perché è basato sulla parte di ricerca, quindi è uno dei nostri cavalli di battaglia. Questo tutto mantenendo un insieme unico rispetto all'ambiente VMware che già ho. e questo è un elemento che mi aiuta a fare un passaggio, un passo alla volta, o mantenere comunque tutta una parte su VMware. Nessuno mi obbliga a passare fondamentalmente a tutto cloud e posso avere una situazione veramente ibrida in questo modo. Di cosa parliamo materialmente? Perché poi, ovviamente, qui si parla di risorse, quindi bisogna sapere cosa mi ritrovo in casa nel momento in cui compro servizio. Di fatto, ci sono dei nodi che sono standard, che hanno delle caratteristiche ben precise che vengono date a disposizione del cliente. Questi nodi sono composti, diciamo così, da una serie di caratteristiche tecniche che vedete qua, sono fondati sulla vSAN, quindi hanno una vSAN e hanno, diciamo, una rete 100 giga di interconnessione tra di loro. Quindi parliamo di nodi molto prestazionali. Le versioni del vCenter, dell'SX e di tutte le altre software vengono cambiate nel tempo, chiaramente, perché sono aggiornate. Questa è la situazione oggi delle release che abbiamo a disposizione. Come dicevo prima, il patching, gli aggiornamenti sono a carico Google, quindi questi numeri, queste versioni cambiano nel tempo. Che cosa posso farci? Come dicevo prima, non è un ambiente chiuso. L'amministratore di VMware Engine ha l'amministrazione vera e propria dello strumento, quindi ha la possibilità di utilizzare software terze parti, amministrare e installare quello che più gli serve. Faccio alcuni esempi. Avevo un premise, un software di backup che mi gestiva il backup di VMware. Benissimo, lo voglio mantenere anche in cloud. Mi mantengo quello. Non devo cambiarlo. Perché, avendo le API aperte, io posso andare a interagire con il mio VMware Engine come se fossi on-premise. Quindi, che ne so, avevo Vim, Convolt, NetBackup, non lo so, quello che volete, utilizzo quello. Non voglio usare il Boost Free Application. Non c'è nessuno di voi, ma voglio usare Zerto. Uso Zerto per mantenere l'allineamento tra l'on-premise e su se parlo di disaster recovery. Voglio andare a usare più spazio perché ho delle applicazioni con molto spazio di richiesta, ma poca CPU come requisito. Benissimo, posso agganciare dei volumini TAP per andare a ampliare la mia VUSAN interna e quindi sbilanciare quello che è il rapporto tra lo storage e le CPU e la potenza elaborativa. Di conseguenza, come vedete, non è un ambiente chiuso, come si potrebbe immaginare. È un ambiente che mi permette di andare a elaborare una strategia che è la mia, non quella che mi determina il cloud provider. Questo è un po' in generale l'approccio che ha Google. Cerca sempre di capire all'interno della struttura del cliente quale sia la soluzione migliore evitando di imporre dei must dal punto di vista del cloud. Cioè quindi cercando di andare incontro a quelle che sono le esigenze del cliente e comprenderle che non è esattamente comune in un cloud provider. Qui, come vedete, ho la parte di NetApp che dicevo prima. Cosa mi permette di fare? Di associare quello che è la componente computer è la componente storage. Quindi posso andare a ampliare lo storage a mia disposizione con un leader di mercato. Quindi non sto parlando di uno storage sconosciuto ma di un elemento dell'infrastruttura che è un premise probabilmente o no, ma comunque conosco. L'altro aspetto è le licenze. Visto che l'ambiente VMware Engine include le licenze VMware, quindi le gestiamo noi. C'è un programma che agevola i clienti per riuscire ad atterrare su VMware Engine. Quindi c'è un contratto che si può fare con delle agevolazioni per ammortizzare le spese di licenze che io avevo un premise prima e trasportare su Google Cloud il tutto. Quindi facendo un po' un riassunto della situazione. Che cosa mi dà come vantaggi? Migrazione più veloce, gestione cost-effective in base alle mie esigenze, un valore che mi permette di espandere la mia attuale architettura step by step andando un pezzettino alla volta a capire cosa veramente nel cloud mi interessa e cosa non mi serve per la mia azienda e la riduzione soprattutto del rischio operativo durante la migrazione. Quindi mi ritrovo a fare questo passaggio con un rischio operativo e un impatto sull'operation molto molto più basso rispetto a quella che è la situazione che poteva essere su trasformare tutto direttamente in cloud, no? Perché banalmente non devo trasformarle in web o non devo riscrivere completamente le applicazioni per adattarle a quello che è il mondo cloud. A meno che io non abbia già una struttura DevOps allora in quel caso lì rientriamo su un altro stream perché in quel caso ovviamente è portable però fatemi dire mediamente per quello che vedo io dai miei clienti è difficile che ci sia un cliente che abbia già tutto DevOps soprattutto i clienti più grandi hanno spesso il contrario cioè stanno adottando il DevOps adesso iniziano adesso a guardarci quindi tutto quello che è fuori dalla nicchia che in azienda è piccolina spesso dei DevOps come lo gestisco? Cioè andarlo a trasformare in cloud vuol dire magari rimettere mano a delle applicazioni che non tocco da qualche anno che sono lì ferme quindi vuol dire che non so se nel momento in cui io prendo quella VM la porto sul cloud e funzionerà tutto perché magari dentro c'è qualcosa che non torna mentre facendolo con un VMWare è chiaro che io porto da uno stato VMWare a uno stato VMWare il rischio che ho che ci sia qualcosa che non funziona è molto molto più basso dal punto di vista anche della trasformazione poi da lì posso aprirmi al mondo Google con i servizi a valore quindi posso andare a intersecare banalmente anche i dati che io ho all'interno di VMWare con un BigQuery rispetto anche a altre fonti dati ce l'ho tutti vicini prima ce l'avevo on premise magari non riuscivo a fare real time di analisi di alcune cose portando il mio mondo VMWare su cosa faccio? ce l'ho vicino banalmente e riesco magari ad accorciare i tempi di analisi su certe tipologie di dati e magari riesco anche ad arricchirli che ne so con dati di sensori che mi atterravano già direttamente in cloud attraverso code PubSub quindi incrocio più informazioni ce l'ho tutte lì ma sono open perché se un domani decido che Google Cloud non mi sta più bene comunque sono in un ambiente aperto che mi permette o di ritornare indietro o di passare su un altro cloud provider questo è un punto fondamentale per Google cioè il fatto di avere un approccio open da libertà ai clienti veramente di fare l'average della migliore tecnologia ma senza sentirsi costretti a stare all'interno di un cloud provider qui abbiamo un esempio giusto per parlare di un esempio reale Carrefour Carrefour è una nostra grossa referenza che usiamo spesso perché appunto hanno fatto un percorso di trasformazione con noi sia dal punto di vista tecnologico ma anche di organizzazione aziendale nel senso che diciamo all'interno di Google ci sono dei percorsi che noi facciamo con i clienti per aiutarli anche a migliorare quello che è diciamo lo stato dei dipendenti ad attirare talenti e a gestire una crescita all'interno dell'azienda stessa che è il nostro cliente qua loro hanno proprio visto in quello che era il VMU Rangie la possibilità di carpire tutto quello che ho raccontato fino adesso quindi andare a fare un passo verso il cloud senza stravolgere tutto che cosa li ha convinti oltre al discorso del passaggio li ha convinti sul fatto che c'era la loro esperienza che avevano in casa non doveva essere stravolta e che avrebbero potuto far crescere le persone sulla parte Google gradualmente quindi mantenendo quello che erano le competenze in casa li ha convinti il fatto che abbiamo una rete di tutto rispetto che è di nostra proprietà cioè la rete di Google non è di un provider è di Google i cavi sono i nostri quindi all'interno di Google il network che c'è è proprietario che è un differenziante non da poco in più è una 100 giga quindi ha una velocità e delle prestazioni molto elevate questo cosa significa? che io posso avere connessioni multi-region con bassa latenza per cui se io ho il mio VMware engine a Francoforte come dicevamo prima perché fisicamente lì potrei avere degli IoT edge che sono in tutto il mondo che si appoggiano ai nostri edge e quindi da lì io sono dentro la rete Google quando sono dentro l'edge non devo più uscirne dal punto di vista operativo per cui la mia latenza diminuisce molto per cui posso pensare ad applicazioni distribuite per questa ragione l'altro aspetto è la gestione unificata cioè il VMware engine è all'interno della console quindi mi ritrovo dal punto di vista operativo a gestire tutto da uno stesso cruscotto anche a livello di monitoring e operation posso aggiungere i software di terze parti che tipicamente trovo anche marketplace quindi ce l'ho all'interno anche quelli della console Google e posso mantenere il mio ecosistema come era prima e in più posso come dicevo far l'everage sulle tecnologie che Google mi mette a disposizione quindi inizio a guardarmi intorno inizio a guardare BigQuery inizio a guardare Kubernetes engine oppure quello che mi interessa di più per sviluppare quello che è un modello nuovo dal punto di vista tecnologico ultima cosa penso di aver fatto anche un po' più corto però allora l'altro aspetto è come aiutiamo i clienti perché questo è il primo passaggio cioè il cliente deve capire cosa vuol dire fare questa cosa abbiamo di fatto la possibilità di fare un assessment a casa cliente con dei tool che ci permettono di capire qual è l'ecosistema del cliente in quel momento cosa significa in termini non solo tecnologici ma anche di costi portare quell'ecosistema in cloud e quindi andiamo ad analizzare tutti questi elementi e diamo al cliente la possibilità di vedere il risultato di questo report che alle volte lo sorprende anche devo dire perché magari vede delle cose che non si aspettava all'interno dei dati che vengono fuori da questo report perché mi fa un assessment del mio status e della mia infrastruttura e mi dice guarda a fronte di quello che tu hai se lo vuoi portare su VMware Engine hai questo tipo di costi ti servono X nodi X spazio X tutto di questo e ti fa un conto del TCO che ne viene fuori facendo questo tipo di ragionamento e questa è una cosa che ogni cliente può richiedere per cui abbiamo questo tool in più sempre nell'ottica del far crescere il cliente con noi abbiamo la possibilità di iniziare a fare dei workshop dove possiamo rivedere l'assessment che abbiamo fatto insieme oppure vi spieghiamo nel dettaglio come funziona VMware Engine e andiamo negli elementi che vi servono per capire come fare o la migrazione o l'era a seconda di quello che è la scelta del cliente a 360 gradi perché ovviamente in un contesto di questo tipo banalmente devo capire come sistemare il network questa è la prima cosa che mi viene in mente come sistema network che tipo di connessioni mi serve tra l'on premise e il cloud per gestire bene le cose come metto su tutti tutti i meccanismi di sicurezza che mi servono per far far sì che questa connessione sia sicura e quindi non ho problemi di security mettendo in piedi questo collegamento queste sono tutte domande che ovviamente il cliente si pone ma la risposta non è sempre la stessa chiaramente dipende dalle esigenze del cliente quindi in questo caso noi attraverso il tool e attraverso il workshop andiamo in deep col cliente per capire esattamente quello che gli serve per mettere in piedi questo tipo di approccio questo vale per VMware Engine ovviamente ma anche su altri aspetti però nel VMware Engine siamo facilitati perché abbiamo questo tool che ti dà una baseline di informazioni utili per riuscire a cominciare senza dover mettersi lì col cliente a fare la lista di 200 milioni di domande per capire come è messo oggi e andare avanti con quello che gli serve io vi ringrazio dell'attenzione se avete domande sono sotto al boot con un mio collega e siamo a disposizione altrimenti penso che la presentazione verrà condivisa e registrata grazie a tutti